Un noto programma televisivo allora pensò che per farle cambiare nuovamente idea, facendola così tornare ad amare i nostri amici gay, fosse quella di farla riappacificare con Milka, ormai pentita di ciò che aveva fatto. Lei è una persona, diciamo, poco incline ai sentimentalismi, Milka. Eh, muo glielo diciamo subito. Ora le diciamo, glielo dice subito. Milka, eccola qui. Ma io e Giorgia non abbiamo mai dedicato. No, lei se non so bruci... Ma è vero, Milka, che conserva ancora un foglietto, conservi ancora un foglietto, un consiglio che le ha dato Giorgia? Di che si tratta? Era, beh, lei appunto, quello è un foglietto, forse Giorgia non se lo ricorda, poi Giorgia te lo faccio rivedere. Un foglietto che risale a una ventina di anni fa, in cui lei mi diceva che lei era fiera di me e che avrei dovuto esserlo anche io. Giorgia però non rimase affatto colpita da quelle parole. Non riuscirà a farmi piangere, glielo dico subito. No, no, ma tanto ho già pianto, quindi non c'è proprio se abbiamo fatto... Non piangerò.